Elena Sofia Ricci torna con successo in tv con la serie I casi di Teresa Battaglia. La seconda stagione, intitolata Ninfa dormiente, tratta dai romanzi di Ilaria Dutti, ha conquistato il pubblico di Rai 1 con uno share del 22% nella seconda puntata. Questa sera va in onda l'ultimo episodio in cui Ricci interpreta una profiler alle prese con enigmatici casi e delitti. Amata dal pubblico, l'attrice è stata anche ospite di Ballando con le stelle, emozionando la platea con una standing ovation. Riservata ed elegante, Elena Sofia Ricci condivide dettagli della sua vita privata sui social, seguita da oltre 500.000 follower. Su Instagram ha mostrato la sua casa a Roma Nord, un mix di antiquariato e arte contemporanea. Con origini fiorentine, l'attrice vive a Roma da anni, prima a Trastevere e ora in una zona più tranquilla e verde. La sua casa è accogliente, con un grande terrazzo pieno di piante e interni che mescolano oggetti antichi e moderni. I pavimenti in parquet, i muri chiari e gli specchi riflettono la luce, creando un ambiente elegante. Nella sala si nota un soffitto in legno con faretti LED, dettaglio che evidenzia il gusto raffinato.